Oggi mentre giocavo a Fortnite in due riempie ho incontrato una persona con un nome molto strano e alla fine è successa una cosa terribile Ok raga siamo entrati adesso in game, vediamo un po' con chi siamo capitati Ah che rrisi Aspettate andiamo, no che pinnacoli pendente, andiamo a rifugio, andiamo a rifugio Ciao a kerrisi Do you speak Italian? Oh ok ragazzi è italiano, è italiano, perfetto abbiamo trovato un italiano Bro come stai, come va? Dimmi un po', dimmi un po' come va la vita Perché cosa stai facendo qui su Fortnite? Tutto bene, tutto bene, io sono qua su Fortnite perché io sono un hacker di professione Un hacker di professione, oddio sei veramente potentissimo Eh si sono, modestamente sono molto molto forte Ok e cioè perché stai giocando su Fortnite se sei un hacker di professione? Allora questa cosa puzza leggermente perché di solito sono certo che gli hacker non giocano a Fortnite Ora non so se sei un hacker di Fortnite oppure no però Io sono il miglior hacker in circolazione, ma che cosa stai dicendo? Allora prima di tutto ti calmi con le parole Perché cioè mi sembra un po' strano dire così le parolacce anche perché sai com'è Non sono uno a cui piace sentire tanto le parolacce Ma poi sei il miglior hacker in circolazione, ma di cosa ha il miglior hacker? Di Fortnite? Di Minecraft? Di cosa? Io sono il miglior hacker di Fortnite Infatti io riesco a metterti nell'account di Fortnite almeno un milione di ribalti Cosa? Non ci credo Ok sei un po' scarso Mi sa che qua sarai il miglior hacker ma non sei il miglior hacker per quanto riguarda invece la mira Zitto! Zitto! Che si interrugo l'account Devi stare zitto! Oddio diciamo che non so quanto me lo puoi distruggere perché sincero non mi sembri tanto forte adesso eh te lo dico In caso tu ti chiami Gabriele? Eh sì mi chiamo, mi chiamo Gabriele sì Vivi a Napoli? Oh aspetta, aspetta un secondo, aspetta un secondo che sta chiamando mia madre dammi un secondo Raga ma come fa a sapere chi sono? Come fa a saperlo? No no aspetta c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va perché il nome va beh il perifino al nome si può capire Ma Yvonne come fa a sapere dove vi può? Oh raga no 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 aspettate c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che assolutamente non va Allora fermi tutti io voglio fare una cosa Se dopo riceviamo più prove il fatto che lui dà veramente V-Bucks Io gli do il mio account e voglio vedere se mi dà raga vi giuro sto per rischiare tantissimo Quindi solo per questo dovete lasciare il like e iscrivervi al canale Ok ci sono ci sono ma potremmo fare una cosa Certo dato che ti sento un poco malino qui da Fortnite possiamo chiamarci su Discord se ce l'hai Discord Ok ragazzi perfetto allora adesso siamo su Discord Lo sento un poco meglio adesso riesco a distinguere meglio anche i suoni Però raga vi giuro sono veramente molto molto sospetto su questa cosa non so cosa dire Però allora sentiamo tu dato che sei tipo da quello capito il miglior hacker che c'è in circolazione Sai fare solamente questa cosa dei V-Bucks o fai qualcos'altro? Io riesco a distruggerti l'account in due secondi Cioè tu mi distruggeresti l'account di Fortnite o così ma solo l'account di Fortnite Perché allora io ti dico una cosa non ti nego ho un canale YouTube Quindi con un po' di iscritti che assolutamente non fanno mai male Mi sapresti distruggire anche quello Hai un canale YouTube? Sì ho un canale YouTube non ti vengo a dire quanti iscritti ho perché poi ho paura Perché se sei un vero anche tu me lo butti giù Però voglio capire quali sono le tue potenzialità cosa sai fare Facciamo una cosa se questo video arriva a mille like io ti farò vedere la mia vera faccia No 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 aspetta un attimo aspetta un attimo Come fai a sapere che sto facendo un video? Io ti vedo Gabri No 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 fermo 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 Non ci arriviamo io ti acchiero il canale No no aspetta 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 Allora parliamo di una cosa parliamo di una cosa Tu adesso mi stai mettendo un po' un poco di ansia sai com'è Quindi io ti giochiamo però io adesso vorrei sinceramente questi V-Bucks Per avere questi V-Bucks devo fare qualcosa Devo fare delle kill tipo Voglio che mi fai ben 10 kill Se mi fai 10 kill allora lì ti potrò dare questi V-Bucks Ok 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 ragazzi 10 kill 10 kill Sembra una cosa molto molto complicata perché io ti giuro bro mi sto cagando sotto adesso Dimmi un po' le persone che hai hackerato dai sentiamo pure perché Cioè come faccio a credere una persona che mi dice io ti acchiero Sì 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 dai dimmi un po' chi è che hai hackerato Okierop, Dexfoss, Contins, Best Bastard, Crazy Mad e tantissime altre persone Oddio però aspetta ora che ci penso io avevo visto un video Cioè io avevo visto delle persone che erano state bannate, hackerate Esatto Cioè quindi su no 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 Quindi io mi dovrei seriamente preoccupare allora Cioè no aspetta un attimo aspetta un secondo Io adesso sto un attimo panicando Dammi un secondo che mi stanno chiamando i miei genitori No raga allora la situazione è orribile qui Allora io adesso sto iniziando a cagarmi letteralmente sotto Cosa dovrei fare con questo hacker? L'obiettivo adesso è quello di fare almeno 10 kill Perché se non facciamo 10 kill V-Bucks non li potrò mai ottenere Però raga io ho paura di dare l'account a questo qua Cioè penso gli devo dare l'account Scusa signor hackerisi Che non penso ti posso chiedere il nome Per avere i V-Bucks Cosa devo fare? Cioè ti devo dare mica il mio account Tu mi devi dare il tuo account e le mail di Google Come il tuo account e le mail di Google? Scusa tu mi hackeri così bro E sappi che se tu non riuscirei a fare queste 10 kill Non ti ritroverai mai più il tuo account di Fortnite No 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 aspetta Io non ho ancora accettato nessuna sfida Se dovessi farle ok me li puoi anche dare i V-Bucks Ma no bro non funziona così Non mi puoi dire che mi togli l'account di Fortnite così a caso Cioè io questo account me lo so studiato Ci ho guardato tantissime season Non puoi fare una roba del genere Nel caso la tua password è No 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 aspetta No come fai a sapere la mia Oh no no Io vedo pure la tua email E allora Oh no 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 raga raga No devo fare assolutamente queste 10 kill No porco porco cane porco tutto Raga no 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 Allora allora bro Io ti voglio chiedere una cosa Possiamo fare pace? Cioè io non ho fatto niente di male nella vita Cioè facciamo pace amore divertiamo Zitto zitto Non mi interessa niente Zitto zitto Fai le kill Faccio le kill Faccio le kill Va bene va bene Faccio le kill Faccio le kill Ok li sto killando io Li sto killando tutti io Va bene sono a 2 kill Sono a 3 kill Sono a 3 kill Va bene Vieni qua Vieni qua scemo Dai Allora li ho uccisi Però vorrei farti sapere Che fate un poco schifo Signor hacker Cioè fate un poco Zitto Che ti distorgo l'account Zitto Oddio Oddio Allora 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 Devo fare altre 6 kill Altre 6 kill Potrò avere finalmente questa cosa Però per favore dai Non fate niente di male Che non ho fatto niente di male Nella vita vi supplico Non è vero Ti devi stare zitto Oddio Oddio che kill Che ho fatto 73 Sto distruggendo tutti per lei Signor hacker Per favore però Non mi accarate L'account di L'account di youtube È una cosa a cui tengo tantissimo Per favore Muoviti muoviti Non rompere il ca Io ho tantissime hack Le wallack L'abilità di poterti Distruggere l'account di youtube Oddio Allora per quanto riguarda Le wallack Avrei da ripensarci Cioè fate un poco schifo Sono forte E te senza affesa Invece per quanto riguarda Le altre hack Forse ci posso anche credere Perché la mia password Non l'ho mai data a nessuno E comunque sto distruggendo tutti Quindi mi sa che qui Finalmente posso Posso liberarmi da voi Posso avere questi v-bugs Gratis Giusto? Solo se fai 10 kill Non ne voglio 9 Non ne voglio 8 Ne voglio 10 Io so che tu hai Anni C'è scritto qua E Sono sicurissimo Comunque ho fatto altre 2 kill Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mi manca pochissimo Finalmente posso liberarmi No bro Io la mia carta di identità Ce l'ho qui bro Come fai a sapere questi dati? Non mi dire Non mi dire che mi hai clonato La carta di identità Sì Non puoi Non puoi Non puoi No raga Sto iniziando veramente a tremare Sto iniziando a cagare sotto In un modo assurdo I tuoi dati non saranno più al sicuro Ora che sei in partita con me In che senso scusa? Muoi più Muoi più No 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 Aspetta No 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 Se tu perdi questa partita Io ti butterò i tuoi dati Del dark web Del dark web? Ma penso sia anche il posto dove li hai trovati Cioè non penso Perché me li ha passati un certo bimbo Un bimbo strano Dai raga Un pochettino strano Un bimbo strano Non mi dire Ma era un bambino con un filtro Sì Non ci credo Non ci credo ragazzi Cosa ha fatto il fan che ho denunciato Non ci credo Perché devi capire C'è un bambino che io ho dovuto denunciare Per una cosa che aveva fatto Lui ti ha passato i dati Comunque sono a 10 kill bro Vuol dire che mi devi dare assolutamente questa roba E non mi devi hackerare Però dobbiamo vincere la partita Ma avevi detto Sono le kill I dati tuoi ce li ho io Oddio guarda che i dati miei ce li avrei anche io al momento Perché sono le mie da Io li posso mettere nel dark web Mi dispiace Questo è l'unico problema Madonna santa raga Godo l'ho distrutto Devo sparargli a tutti Devo uccidere a tutti quanti questi stupidi Andiamo a vincere questa partita ragazzi Solamente per voi Lo faccio per voi Perché il canale Lo voglio per sempre continuare Non voglio essere hackerato da uno stupido hacker Voglio sapere di più Sei qualcosa di questo bimbo Che ti ha dato Che ti ha dato queste dati Io so soltanto che ha hackerato Dexfoss E l'ho aiutato pure io Hai aiutato No Quindi dietro tutta questa storia Ci sei tu Sì Proprio così La faccia del bambino Da quello che ho capito Non sei nemmeno Cioè Tu la conosci Oppure Io so di tutti Ragazzi siamo in sette Siamo in sette Ce la posso fare Va vinta questa partita Non la posso per niente perdere Sto facendo Io vedo un nemico Come sta andando Attualmente ho 13 kill Quindi diciamo che Ho già superato La soglia delle 10 kill Però l'unico problema è che Dobbiamo vincere la partita Bro Ma hai killato una persona? Io te l'ho detto che sono un hacker Ok l'ho killato anche uno Mancano 5 persone Non ci credo Ne mancano pochissime Perfetto raga Perfetto Perfetto Muoviti Perché se no Mi si scendono le statistiche Muoviti Scusa 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 Corro Corro Un attimo solo Ragazzi no raga La situazione è critica Perché siamo in 5 Ti giuro se muoio adesso È finita È finito tutto Vi devo abbandonare Se muoio adesso Perché non penso proprio Che lui riesca a vincere una partita Bro per favore Puoi giocare il massimo Perché vorrei vincere Non voglio perdere l'account Boh vedremo un attimino Dipende da come va C'è uno Oddio L'ultima kill L'ho fatta io Oddio Oddio Aspetta aspetta Quindi vuol dire che adesso Adesso mi darai I 60 milioni di V-Bucks Quanti erano? Mille milioni Sì sì Passami subito l'account Muoviti Ok ragazzi Io glielo passo Glielo passo l'account Ok ragazzi Io ho chiuso tutto Adesso io non lo sento Non ho fatto nulla Oddio Che cosa è apparso sullo schermo? No raga Sei stata gherata Voglio Oh ragazzi Sono fottuto Io mi sa che devo fare Una cosa assurda No raga Devo recuperare l'account A tutti i costi Lasciate il like Iscrivetevi Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti i nostri spettatori